Allora, benvenuti a tutti, buon pomeriggio. Siamo qui nella splendida cornice del convento di San Cerbone e siamo qui per questa grande iniziativa che la Fondazione Spazio Spadoni ha fatto in questa prima settimana di settembre. Siamo all'interno di questa convention di fare spazio organizzata appunto da Luigi Spadoni e dalla sua fondazione e dedicata quest'anno al tema della reciprocità. Alcuni di noi sono in presenza, come ben sapete, alcuni relatori e altri partecipanti invece intervengano online, grazie alla possibilità della diretta streaming e abbiamo anche la diretta su Noi TV, che ringraziamo questa televisione della Lucchesia che partecipa a tutti questi eventi. Questo appuntamento, come gli altri, viene registrato e quindi sarà disponibile dai prossimi giorni sul portale di Spazio Spadoni e potrete quindi rivederlo e anche consigliarlo ad altre persone. questo evento fa parte dei 35 che animano questa settimana eccezionale e i nostri graditi ospiti che ora presentiamo fanno parte degli oltre 70 che hanno dato la possibilità di contribuire all'approfondimento e ai contenuti dei temi scelti per questa edizione da fare spazio, appunto, come abbiamo detto, la reciprocità. Il titolo di questo appuntamento di oggi è San Martino di Tours, patrono del volontariato. La reciprocità nella sua vita è raccontata attraverso la Cattedrale di Lucca, che quest'anno, anzi l'anno scorso, ha fatto i 950 anni della sua storia. Ad aiutarci in questo incontro saranno alcuni ospiti adeguati e graditi. Qui con noi sono Don Luigi Bertolucci, parroco della comunità Don Bosco di Viareggio, esperto appassionato in storia dell'arte e di beni culturali, Don Daniele Martinelli, esperto in arte sacra e beni culturali, e Monsignor Marco Gragnani, vicario della Cattedrale. In collegamento online dalla Francia ci sarà il padre Benedettino fra Antonio Bellini, studioso della vita di San Martino di Tours. Io direi che possiamo dare inizio a questo appuntamento. Noi siamo qui per celebrare appunto un'occasione importante, il riconoscimento di San Martino come patrono del volontariato. E questa proposta è partita da Lucca, è partita da tanti anni, ha fatto un cammino lungo e è stato possibile perché a Lucca negli anni recenti, nei decenni recenti, c'è stata una concentrazione di persone particolarmente appassionate del volontariato, appassionati del sociale, appassionati della politica, ma con una grande motivazione. Si può partire da Marieletta Martini passando per Giuseppe Bicocchi, passando per Maria Pia Bertolucci e tante altre persone che veramente hanno vissuto la loro stagione di impegno con una capacità che oggi difficilmente troviamo. Nel mondo del sociale, nel mondo della politica soprattutto, non ci sono più quegli esponenti che abbiamo avuto in quel periodo e che hanno capito che la partecipazione, il volontariato, erano fenomeni eccezionali che andavano salvaguardati e promossi. E quindi a Lucca c'è stata una stagione di promozione grande del volontariato attraverso i convegni che sono stati organizzati a Viareggio, poi a Lucca, che hanno dato vita a una stagione di studio che ha portato poi a dei risultati eccezionali come la prima legge del volontariato che è stata promossa sicuramente a livello parlamentare da un'attorevole figura come quella di Marietta Martini ma che poi ha trovato consenso nel mondo politico a carattere proprio quasi unanime. E quindi queste sono state cose importanti. Ecco, in contemporanea a questo cammino c'è stata l'idea portata avanti da queste persone e negli ultimi anni da Maria Pia Bertolucci che era rimasta l'ultima di questa grande e bella stagione di fare di San Martino dei Tours il patrono della nostra cattedrale, il patrono di Lucca il patrono del volontariato. Anche qui un cammino lungo che negli ultimi anni finalmente ha trovato accoglimento e oggi siamo qui a parlarne e altre persone più brave di me lo faranno con la competenza che tutti li riconosciamo. Quindi io direi che a questo punto passo la parola a padre Adriano Bellini Monaco Benedettino che dalla Francia ci parlerà di San Martino di Tours Bene, buongiorno a tutti grazie dell'invito allora cercherò di raccontarvi un po' della vita di questo grande santo di San Martino di Tours brevemente la leggenda o la vita di San Martino noi la conosciamo soprattutto quella scritta da Sulpiccio Severo e questa vita di San Martino inaugura la letteratura geografica in occidente una letteratura che era cominciata con i martiri con la leggenda dei martiri gli atti dei martiri e che poi questo ideale del martirio resta nella vita cristiana e si cerca il martirio quotidiano che viene incarnato nella vita ascetica e monastica in oriente il primo documento che dà testimonianza di questa letteratura geografica della vita di questi ascetti è la vita di Antonio Abate che voi conoscete bene Antonio dell'Egitto padre del deserto mentre in occidente allora è proprio la vita di San Martino la prima testimonianza della vita ascetica della vita monastica con una differenza perché la vita di Antonio è stata scritta da Sant'Atanasio nel 360 con poca diciamo poca pretensione di un testo curato nella lingua nello stile mentre quella di San Martino la vita di San Martino accade in un ambiente molto diverso in un ambiente sul piccio severo viene da una famiglia nobile o molto colto proveniente dall'aristocrazia e quindi la vita di San Martino è molto curata nella lingua nello stile nel racconto e ovviamente sia la vita di Antonio in Egitto sia quella di Martino in occidente saranno poi serviranno di modello per tutte le altre vite che poi soprattutto nel Medioevo si moltiplicano sono tantissime queste vite di santi abati monaci vescovi e quindi servono di modello e cosa sappiamo allora della vita di San Martino allora San Martino nasce in Ungheria e i suoi genitori erano nobili ma erano pagani però San Martino è cresciuto a Pavia in Italia il suo padre essendo un tribuno militare dell'esercito romano scusate San Martino nasce circa l'anno 316 quindi il suo padre era un tribuno militare dell'esercito romano e Martino dice sul piccio severo il suo geografo Martino viene costretto dal padre a entrare nell'esercito però sin dall'inizio l'autore dice che Martino viveva piuttosto da monaco che da soldato e questo è un topos nella geografia cristiana di presentare il bambino che cioè il santo che sin dal bambino è già come che destinato è già stato eletto alla santità e allora San Martino farà i suoi giuramenti militari anche se lui voleva prima diventare cristiano catecumeno e quindi non riesce e poi voleva anche vivere come remita nel deserto imitando i monaci ascetti dell'Oriente in ogni caso fa i suoi giuramenti militari e diventa un soldato di Cesare ma come ha detto la geografo più che un soldato un monaco anche se ancora lui era catecumeno non era ancora non aveva ricevuto il battesimo ma lui viveva tutti i valori del Vangelo e compiva buone opere queste queste sono cose importanti vivere i valori del Vangelo e compiere buone opere dunque troviamo in questo momento Martino come un soldato di Cesare e è proprio in questo periodo della vita di San Martino come soldato che accade occorre la scena più famosa del racconto che è la divisione del mantello si dice che alle porte della città di Amiens nella Gallia durante un inverno molto rigido Martino incontra un povero nudo e immediatamente prende la sua spada e divide il suo mantello a metà per coprire quel povero uomo questo breve racconto che è il capitolo terzo della vita di San Martino è pieno di dettagli perché dice che l'incontro ha luogo in pieno inverno nel cuore di un inverno che era più rigido del solito al punto che il rigore del gelo spegneva le vite di molti poi noi sappiamo probabilmente anche nella cattedrale di Lucca vediamo San Martino proprio in questo momento in questa scena bellissima sul suo cavallo che divide il mantello il testo però di Sul Piccio Severo non parla del cavallo dice soltanto racconta soltanto la divisione del mantello anzi la geografo dice che Martino non aveva più nulla che aveva dato tutti i suoi soldi già in un'analoga opera di carità vuol dire che era solito Martino fare la carità verso i bisognosi quindi in quel momento Martino era anche lui era povero aveva solo il suo mantello che era già poco per lui durante un rigido inverno e pertanto il suo gesto di carità ha un valore ancora maggiore non era la prima volta che il santo operava il bene in maniera eroica e Martino divide e condivide tutto ciò che aveva in quel momento questo è importante perché non si tratta del superfluo ma di tutto quello che Martino aveva e un altro dato è che è l'indifferenza dei passanti la geografo dice questi il povero implorava la compassione dei passanti e tutti evitando lo sventurato proseguivano oltre allora questo straordinario gesto di carità di Martino diventa il modello della missione cristiana stessa nella storia rivela il primato della carità nella vita del cristiano una carità operosa una carità concreta e in quel momento in questo momento di questo episodio chiamato conosciuto come la carità di San Martino non mancano quelli che lo deridono perché lui stesso è rimasto mezzo nudo altri invece cominciano a piangere per non aver fatto niente di simile di non aver pensato prima di fare di compiere il gesto di questo santo di questo soldato che divide il suo mantello allora questo episodio conosce un grande successo e rimane nell'immaginario collettivo come la carità di San Martino come avevo detto è giustamente secondo me in questo episodio che dobbiamo vedere il patronato di Martino come come patrono appunto del volontariato Martino a qualcuno che si ferma lui non ignora il povero guarda l'altro donna il suo tempo a qualcuno che ha bisogno di lui mentre gli altri passano indifferenti e Martino dice sul piccio severo Martino uomo pieno di Dio comprese che quel povero era lui riservato ora Dio dà la possibilità a Martino di compiere un gesto di carità verso Dio stesso come vedremo più avanti Dio stesso nella persona di quel povero riceve il gesto di carità di Martino dunque Dio dà la possibilità di essere generoso di essere reciproco di rispondere all'amore e alla carità di Dio verso che Dio versa sull'uomo quindi una vera grazia e un enorme privilegio concesso a Martino da parte di Dio ovviamente tutti noi abbiamo qualcuno riservato a noi a chi possiamo dare non solo delle cose materiali ma soprattutto il nostro tempo la nostra attenzione la nostra cura la nostra presenza la nostra carità per appunto dare testimonianza della carità di Cristo ora dopo questo episodio dove la condivisione del suo mantello in sogno nella notte seguente Cristo stesso appare a Martino vestito con la metà del mantello con il quale il santo aveva ricoperto il povero e Gesù che aveva detto ogni volta che avete fatto ciò per uno solo di questi più piccoli l'avete fatto per me lui proclama durante il sogno di Martino a chiara voce alla moltitudine degli angeli che lo accompagnavano dice Martino ancora catecumeno mi ha ricoperto con questa veste e nella vita di Martino poi si racconterà altri episodi per esempio a Parigi mentre entrava per la porta della città di Parigi in compagnia di una gran folla bacia un lebroso dall'aspetto miserevole tra il ribrezzo generale e lo benedisse un altro momento viene in soccorso di un povero seminudo quando Martino sarà già vescovo e quindi lui veste questo povero con la sua propria tonaca prima di celebrare la liturgia mi dite se il mio tempo sta per finire dopo il ancora cinque minuti si vada pure avanti è bello ascoltarlo dopo Martino lascia il servizio militare sempre considerato come un soldato di Cristo e parte a Poitiers nella Gallia ovviamente dal vescovo Ilario che lo introduce nella vita ascetica Ilario questo vescovo di Poitiers era una specie di atanasio dell'occidente perché entrambi combattevano l'eresia ariana e dunque lì Martino lo segue in questa in questa lotta contro l'eresia ariana in favore della verità della fede poi fa diversi viaggi converte anche la sua madre non il padre e passa anche per Milano dove fa delle esperienze come eremita come monaco e poi ritorna a Poitiers e si installa in un posto vicino a Poitiers che oggi è la abbazia di Liguget dove mi ritrovo non proprio in questo momento perché sono qualche giorno in un altro monastero però in Francia sono a Liguget è considerata la prima abbazia il primo monastero fondato in occidente fondato proprio da San Martino e quindi si installa a Liguget e porta avanti la sua vita monastica questi eremiti come accade anche con Sant'Antonio tutti tutti i Santi che cercano la solitudine non la trovano mai ci sono sempre i discepoli e la gente che va verso di loro per chiedere una parola e quindi diventano dei padri spirituali e la stessa cosa accade a Martino a Liguget lì in questo posto Liguget compie un miracolo importante lui risuscita un suo discepolo che era morto e lì accanto alla bazia di Liguget c'è questa cappellina che ricorda proprio questo miracolo di San Martino poi San Martino contro voglia diventa vescovo di Tours ed è interessante perché come all'inizio era stato costretto a diventare soldato di Cesare dal suo padre ora dalla folla Martino è costretto a diventare soldato di Cristo e non mancano nei racconti allora miracoli Martino combatte le superstizioni distrugge i templi pagani voi sapete la stessa cosa accadeva in Italia le città va bene però la campagna di solito restava sempre pagana con tanti templi pagani e è lì che Martino come vescovo realizza questa lotta contro il demonio ma anche da vescovo San Martino non abbandona la sua vita monastica e si stabilisce un altro eremo con circa 80 discepoli è l'inizio del monastero un altro monastero allora abbiamo parlato di Liguigè lui fonda questo monastero di Marmoutier oggi mentre a Liguigè esiste ancora una comunità di monaci benedettini della congregazione di Solem a Marmoutier non esiste più è diventata una scuola e lì a Marmoutier Martino con i suoi 80 discepoli allora porta avanti la sua vita monastica e Marmoutier a partire da questa vita ascetica seria semplice diventerà anche un vivaio di vescovi poi arriviamo alla fine del racconto della vita di Martino non vi ho detto è che Sulpiccio Severo la geografo scrive questa vita quando Martino era ancora in vita non era ancora morto quindi la vita finisce con un un elogio alle virtù del santo dobbiamo cercare in una lettera che Sulpiccio Severo invia alla sua socera dove lui racconta proprio la morte e i funerali di Martino molto tempo prima Martino aveva avvertito i suoi discepoli che la sua morte era imminente poi vedendo che le sue forze mancavano annuncia ai suoi discepoli che sta per partire ratristati i discepoli pregano che lui resti ancora un po' tra di loro perché hanno bisogno di loro e San Martino fino all'ultimo respiro dà prova della sottomissione alla volontà di Dio perché dice Signore se io sono ancora necessario al tuo popolo non mi sottrago alla fatica sia fatta la tua volontà questo sarà ripreso anche in tante altre vite come vi ho detto durante il Medioevo arriverà anche troveremo anche nella vita di Santa Francesca Romana più o meno la stessa la stessa espressione in quel momento Martino non sapeva più cosa preferire da un lato non voleva abbandonare i suoi discepoli e le persone che avevano bisogno di lui allo stesso tempo non voleva stare lontano da Cristo ancora a lungo padre Adriano lo fermo un momentino perché tanto c'è un spazio che vogliamo lasciare anche alle domande della sala e quindi prego intanto ringrazio dell'esposizione e volevo fare subito una considerazione che poi lascio anche all'approfondimento della sala San Martino patrono del volontariato nel volontariato certamente le misericordie sono una parte importante un movimento tra i più antichi del volontariato italiano e è forte il legame anche come ci ha detto lei del miracolo di San Martino con la parabola del buon samaritano l'indifferenza che c'era con il buon samaritano c'è con San Martino e questo per noi è un dato importante perché la parabola del buon samaritano è quella che ispira le misericordie e l'ha sempre ispirato nella loro storia e quindi questo è un elemento che mi piacerebbe sottolineare e che vorrei lasciare anche alla sua considerazione sì infatti lo sfondo di questo di questo racconto è proprio la parabola del del buon samaritano ma ci sono anche altri aspetti cioè tutta la vita di San Martino infatti è piena di ispirazione biblica e a noi cioè questo atto di San Martino come ho detto ispira tutta la geografia medievale e ci ispira anche a noi ovviamente è molto attuale il fatto di dare come avevo detto di dare il tempo agli altri di essere disponibile di non ignorare forse è un grande male del nostro tempo è proprio ignorare essere indifferente agli altri che Martino dà testimonianza proprio di di tutto il contrario bene se ci sono in sala delle domande chi vuol porre le domande deve venire qua su al tavolo e così possiamo avere l'opportunità di interloquire con padre Adriano Bellini ci sono domande altrimenti proseguiamo dando la parola a Don Luigi Bertolucci paroco della parrocchia Don Bosco di Viareggio parlerà della reciprocità e sul volontariato sempre però in riferimento alla figura di San Martino ha un tempo massimo di 15 minuti e cerco di farlo rispettare bene sono molto contento di essere oggi qua con voi che siete in persona presenti ma anche da remoto so che diverse persone si sono in qualche modo connesse attraverso internet oppure attraverso la televisione che trasmette questo momento in diretta per noi diciamo come me che siamo di Lucca è anche un momento di grande gioia poter parlare di San Martino come patrono del volontariato è un riconoscimento a una categoria di italiani non sottile non piccola veramente importante io credo che l'Italia vada avanti grazie a tante api che lavorano quotidianamente senza retribuzione e per la maggior gloria di Dio più o meno diretta a vantaggio delle persone che sono più in difficoltà la tradizione lucchese che è una tradizione di marca cattolica è sicuramente importante anche in Italia per questo aspetto cioè per il darsi da fare per il farsi prossimo come diceva Gabriele Brunini per il farsi prossimo quindi del samaritano alle persone che sono più in difficoltà a colmare le differenze allora questo riconoscimento di San Martino patrono del volontariato che è molto interessante è un gesto di una carica secondo me esplosiva bellissima importantissima credo che solamente vedere l'immagine di un cavaliere che spezza il mantello per offrirlo a un povero a un mendico sia un'immagine che parla da sé un'immagine capace di parlare a tutte a tutte le latitudini e in tutta la terra e credo che sia per questo motivo che è stato scelto come patrono del volontariato pian piano è andato su su questa dalla base questa candidatura ed è stata accolta dalla conferenza episcopale italiana ma non è detto che si debba fermare qua tanto che la ricchezza di questo gesto e la pregnanza hanno un valore decisamente universale non solamente locale San Martino è molto conosciuto in Europa ci sono migliaia almeno in Europa migliaia di chiese dedicate a lui e credo che siano una sedicina le cattedrali sedici le cattedrali dedicata a San Martino in tutta Europa non quindi le chiese di campagna la stessa cosa avviene anche a Lucca per la doppia ragione per una doppia ragione uno perché San Martino era politicamente utile al tempo dei Longobardi che sponsorizzano la fondazione di chiese dedicate sia a San Martino che a San Michele la ragione è molto semplice erano due santi che permettevano di mostrare in chiesa le armi sia San Martino con la spada poi il cavallo il cavallo era un genere di lusso importante nel medioevo sia San Michele con la lancia due santi guerrieri quindi avrebbero esaltato le doti guerriere del popolo perciò c'è un motivo anche politico ma anche un motivo spirituale di ortodossia San Martino Martino quando era vescovo di Tur è stato un martello contro gli eretici ha martellato contro l'eresia come ci diceva anche padre Adriano quindi è sempre stato messo a custodia un po' seminato un po' in tutta la diocese di Lucca le cappelle a lui dedicate seminate dappertutto sicuramente in funzione anche spirituale di custodia dell'ortodossia noi abbiamo questa cattedrale che è dedicata a San Martino voluta da un altro vescovo del VI secolo Frediano riconosciuto come santo che probabilmente gli studiosi di oggi dovranno confrontarsi con l'offerta di senso che ci ha espresso in un libro Don Giuseppe Ghilarducci nostro concittadino e nostro sacerdote che parla della quarta cattedrale di Lucca lui individua anche il luogo della prima paleocristiana cattedrale cioè prima quando il cristianesimo è appena arrivato a Lucca sicuramente non si è diffuso nella città all'interno del quadrato della città romana ma in una domus cioè in una casa già abbastanza importante appena fuori dalla porta principale della città quella sud che andava verso Roma che poi sarà chiamata San Pietro lui per via documentale dimostra dove probabilmente era la prima cattedrale comunque un insediamento cristiano importante tanto che il vescovo Maximus de Luca de Tuscia nel 343 è tra i firmatari e non tra i più giovani firmatari del concilio di Serdica nell'odierna Bulgaria quindi la comunità lucchese cristiana era sufficientemente provvista per permettere l'allontanamento del suo vescovo probabilmente per qualche mese in epoca in cui internet non funzionava bene come ora diciamo così allora questa tutta questa antefatto tutta questa storia che lega Lucca con San Martino ha fatto sì che probabilmente proprio da Lucca partisse la domanda di un patrono per il volontariato perché il volontariato ha avuto un riconoscimento e una dignità civile e legale ma aveva bisogno anche di un riconoscimento cristiano diciamo così proprio di una sua attenzione e sottolineatura di un patrono come è sempre successo che la Chiesa ha offerto dei patroni protettori ma anche modelli esempi e testimoni di ciò che si va a fare San Martino è stato proprio accettato come patrono del volontariato e ora questo convegno ne permette di esprimere uno dei lati delle sue potenzialità il gesto in sé simbolicamente visualmente credo che l'abbiamo tutti di fronte San Martino che divide questo mantello con il povero lui che è un soldato romano quindi non è chiamato certamente a perdere tempo con i poveracci divide non quello che gli avanza non è che dà soldi o una parte del suo salario o un'elemosina ma dà una parte importante il mantello che serviva serviva d'inverno per proteggersi probabilmente era il mantello imperiale quello bianco lui era tra le truppe proprio dell'imperatore lì qualcuno osserva che forse potrebbe aver dato la parte interna diciamo il rivestimento interno ecco perché è l'origine della metà del mantello comunque sta di fatto che la leggenda cioè la storia da leggersi per ricordare San Martino parla della divisione a metà del mantello che viene dato al povero il povero si trovava non in città ma fuori dalle porte della città di Amiens come ci ha ricordato padre Bellini quindi non era solamente un povero era un povero si potrebbe dire messo proprio ai margini il povero tra i poveri e Martino non era solamente un soldato ma era un cavaliere quindi era la parte della guardia imperiale scelta perciò non aveva nessunissimo motivo di perdere tempo allora non solamente non perde tempo ma lo spende ma si ferma ed entra in contatto con questo mendico questo povero nudo o meno che fosse era messo nei guai quindi se entra in contatto vuol dire che in qualche modo vede ma l'avranno visto poche persone tantissime dalle porte della città tutti entravano o uscivano quindi era un fiume di gente che entrava usciva Damian perciò era visto da tantissime persone c'è una sola persona che lo intercetta cioè non solamente lo vede ma lo ospita non solamente lo guarda di sfuggita di passaggio non solamente dice una preghiera una raccomandazione lo fa entrare nella sua anima e questo è ciò che fa differente il gesto di Martino da un gesto di elemosina elemosina è una lunga tradizione ma diciamo per noi vuol dire semplicemente dare qualcosa di quello che ci avanza agli altri qui non è un gesto del genere è qualcosa che è importante offerto shared diviso condiviso con una persona che non ce l'ha e questo avrebbe potuto mettere nei guai anche lo stesso soldato non era un colonnello non era un generale non era libero di far quel che gli pare era un soldato quindi dividere come sa chi ha fatto il servizio militare dividere un oggetto dell'esercito non è una cosa che non ha rischi perciò lasciarsi interpellare da un'altra persona ospitarla nel proprio cuore arrivare a esprimere un gesto forte ma anche molto coraggioso molto importante e forse anche a rischio se non dico della pena capitale non esageriamo ma certamente di qualche punizione è un gesto che fa uscire fuori dalle righe completamente questo soldato che poi avrà una vita completamente fuori dalle righe ce l'ha raccontata in parte padre Bellini ma è molto più lunga molto più ricca la geografia pensate che lui è il primo santo diciamo considerato santo venerato santo proclamato santo non martire non martire della Chiesa Cattolica il suo martirio non è consistito nel versare il proprio sangue ma versare la propria fe la propria vita come offerta spirituale gradita a Dio che c'entra tutta questa storia di mille quasi duemila anni fa con la nostra con il nostro convegno sulla reciprocità qui credo che la sfida che lo spazio Spadoni ci ha offerto almeno per me è stata veramente interessante perché quando l'Arcivesco mi ha parlato della reciprocità di San Martino io ho detto che si sbagliava San Martino non fa un gesto di reciprocità fa un gesto di donazione gratuita punto e basta anzi un gesto generoso perché non tiene niente indietro però sapete come i Vescovi sono molto persuasivi e allora mi è toccato approfondire un po' quest'aspetto della reciprocità che è interessante perché la reciprocità è molto utilizzata anche è molto utilizzata anche a livello statale sociale socievole sociologico eccetera però c'è anche una dimensione personale che forse è quella che più ci riguarda come motivazione del volontariato cioè la reciprocità è una forma di scambio ineguale questo che è interessante se è uno scambio tra pari una relazione tra pari è una relazione tra uguali quindi è interscambiabile la reciprocità mette in moto un meccanismo completamente diverso io ti do non per ricevere io ti do perché ho voglia di gioia di darti non è che mi aspetto niente in cambio quindi anche la reciprocità tra stati come dire se è ben intesa non è detto che sia la possibilità di essere a pari di fare un interscambio ma è una forma di rapporto relazione sia a livello personale non sociale di relazione tra ineguali ed è un po' importante perché la reciprocità si impara in famiglia credo che ognuno di noi sia nato un po' in una famiglia dove non tutti siamo uguali allora in una società in cui va avanti l'indipendenza dell'individuo ma che poi porta all'indifferenza la reciprocità ci ricorda l'importanza della differenza perché esiste e può andare avanti solo se c'è una differenza infatti noi cristiani continuiamo a ritenere che ci sia una differenza tra noi e Dio non l'abbiamo appiattita anzi l'abbiamo sottolineata io che ho la fortuna di vivere al mare diciamo così quando guardo verso il mare vedo l'orizzonte e vedo che il cielo e la terra si toccano ma non si confondono sono differenti sono mutualmente fecondanti e questo mi fa gioia mi apre la prospettiva del soldato ricco potente che guarda colui che nessuno vedeva lo fa entrare nel suo cuore e si comporta di conseguenza ecco che la parabola del buon samaritano diventa viva il prossimo passo non è più San Martino sugli altari ma è ciascuno di noi se lo vuole di noi volontari bene ringraziamo Don Luigi Bertolucci e apriamo di nuovo la possibilità di domande anche legandolo al primo intervento mi ha messo fuori il numero volendo anche da casa possono fare le domande ah bene può ricordare gli operatori di Noi TV mi dicono che è apparso il numero sulla televisione su Noi TV attraverso il quale si può fare delle domande telefonando a quel numero utilizzando Whatsapp quindi però se non ci sono noi andiamo avanti e c'è sempre la possibilità di fare domande dopo e ora siamo al collegamento con Monsignor Marco Gragnani rettore della cattedrale di San Martino che ci porterà il suo saluto e accenerà alla nascita della stessa cattedrale ricordando che si sono stati festeggiati i 950 anni dalla dedicazione della chiesa della cattedrale di Lucca dedicata appunto a San Martino di Tursa nel 2020 ormai trascorso abbiamo celebrato il 950esimo anniversario della consacrazione di questa cattedrale la cattedrale di San Martino la chiesa madre della diocese di Lucca ormai siamo nel 2021 c'è stata un'interruzione delle celebrazioni a causa della pandemia abbiamo ripreso queste celebrazioni che ora si stanno svolgendo e giungeranno fino al mese di dicembre fino alla fine dell'anno consacrata nel 1070 da Papa Alessandro II che venne a consacrare questa cattedrale conservando ancora il titolo di vescovo titolare della diocese di Lucca perché Alessandro II era Anselmo da Baggio Sant'Anselmo una personalità all'interno della chiesa della chiesa cattolica che è stato importante e che ha costituito anche il futuro di questo edificio che si è sviluppato in diversi stadi in diversi momenti della storia questo edificio conserva nella sua facciata una testimonianza sulla vita di San Martino ci sono quattro formelle c'è una scultura a tutto tondo del santo che dona il suo mantello a un povero e questa chiesa è stata dedicata a San Martino perché questa cattedrale è stata dedicata a San Martino perché successiva ad una cattedrale la chiesa di San Giovanni è reparata che nel tempo prima dell'edificazione di questa chiesa era divenuta una chiesa ariana e quindi una chiesa non cattolica perciò proprio perché San Martino è stato sempre considerato un antagonista forte nella sua dottrina nella sua testimonianza all'eresia ariana fu dedicata a San Martino questa chiesa cattedrale di questa chiesa cattedrale è uscito proprio ultimamente postumo un volume questo a cura del compianto Monsignor Giuseppe Ghilarducci San Martino la quarta cattedrale di Lucca un libro fatto accuratamente e costruito su testimonianze archivistiche e anche su testimonianze architettoniche qui in questo libro Monsignor Ghilarducci si sforza di far comprendere come la storia di questa città e di questa diocesi si è fondata ed è si è sviluppata sulla costruzione progressiva di questa cattedrale di Lucca lo presentiamo al pubblico questo volume perché è un dono postumo è quasi un testamento del nostro confratello del nostro Monsignor Ghilarducci appartenente al capitolo della cattedrale purtroppo scomparso a causa di un incidente grave e di una vittima di un incidente di un pirata della strada questa cattedrale conserva come tutti sappiamo qui a Lucca un'immagine importante il volto santo ne abbiamo celebrato nel 1882 l'anniversario perché giunge qui fino a noi secondo la tradizione nel 782 non subito è stato qui ma era alloggiato in una chiesa davanti all'attuale costruita davanti all'attuale cattedrale e poi trasferito in cattedrale successivamente questo volto santo di cui proprio in questi giorni si celebra la solennità nella festa di Santa Croce grazie a Monsignor Marco Gragnani per la sua esposizione e ora a questo punto passiamo la parola a Don Daniele Martinelli che è qui con noi vice direttore dell'ufficio diocesano per l'arte sacra i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto lui ci illustrerà le quattro formelle dedicate appunto a San Martino che si trovano sulla facciata della cattedrale ha 15 minuti a disposizione quindi saremo molto rigidi per recuperare i tempi bene un caro saluto anche da parte mia a tutti coloro che sono qui presenti a coloro che ci stanno seguendo attraverso i mezzi di comunicazione il mio compito è proprio quello di presentare un po' come San Martino vive la sua esperienza di reciprocità attraverso le opere alcune opere che sono presenti nella nostra cattedrale di Lucca queste opere sostanzialmente sono quelle che si trovano sulla facciata come diceva anche Monsignor Graniani appunto è una scultura equestre di San Martino che dona il mantello al povero e poi le altre quattro formelle che sono all'interno dell'atrio della cattedrale a me preme però un attimo solo soffermarmi ancora sull'immagine del San Martino che dona parte del suo mantello al povero non dico ciò che è già stato detto da parte di padre Bellini e di Don Bertolucci però è anche vero che in tutta una serie di tradizioni che vennero successivamente che presto a poco riportano il medesimo esempio la medesima storia c'è da dire che però nella notte quel povero che appare a Martino rivestito del suo mantello gli dice che appunto è Gesù eccoli dice Martino ancora catecumeno mi ha dato la sua pelliccia strano questo perché abbiamo parlato di mantello abbiamo parlato di veste però giustamente come accennava anche Don Luigi verosimilmente essendo un mantello militare la stoffa andava portata era data dal castro era data dall'impero ma la pelliccia quindi andava portata da colui che era chiamato a entrare a far parte poi della vita militare e allora al di là di tutto al di là delle discussioni che possono anche sorgere però in questo gesto e guardando a questa statua ce lo può ricordare San Martino dona non ciò che è di qualcun altro ma dona ciò che è suo è sua proprietà e soprattutto la reciprocità di San Martino è una reciprocità prima di tutto che nasce da rapporto con il Signore Martino mi ha dato la sua pelliccia se volete Martino mi ha dato la sua pelle in un certo qual modo il giovanissimo Martino vende la sua pelle a Cristo dona la sua pelle a Cristo dona la sua vita completamente a lui e in questa reciprocità con lui diventa anche reciprocità nei confronti di chiunque incontrerà nella sua vita infatti se volete questa statua equestre diventerà un po' richiama un po' lo stile di vita che poi San Martino avrà nei vari momenti della sua vita nella sua esistenza se entriamo idealmente nell'atrio della cattedrale troviamo appunto queste quattro formelle che corrono tra le tre porte d'ingresso della cattedrale e che ci presentano quattro momenti della vita di Martino qui come possiamo vedere siamo nell'atrio e le formelle sono nella parte alta sia a sinistra che a destra che vanno a incorniciare la porta d'ingresso la prima ci presenta Martino quando è un monaco e come ci raccontava un po' padre Bellini a un certo punto Martino sa che un suo discepolo è morto ma è ancora catecumeno e allora lui corre immediatamente al capezzale come vediamo di questo suo discepolo morto come vedete è vestito da monaco e si dice che Martino risuscita questo catecumeno questo giovane come lui che a suo tempo voleva diventare cristiano e quando questo morto ritorna in vita racconta che mentre si trovava davanti al giudice supremo quando ormai stava per sprofondare nell'inferno invece due angeli accorrono e dicono no perché il monaco Martino ha pregato per questo giovane e allora la reciprocità di San Martino è prima di tutto una reciprocità che si fa preghiera per gli altri e soprattutto una preghiera per coloro che si trovano in particolari difficoltà basterebbe pensare come nell'immagine che abbiamo visto Martino è vero si accosta al morto ma si accosta in mano con il Vangelo con la Sacra Scrittura quasi a ricordarci proprio come sì egli richiama questo uomo alla vita ma lo richiama perché prima di tutto ha pregato per lui e per la salvezza quindi una prima dimensione se così possiamo dire della reciprocità nella vita di San Martino è proprio quello del pregare per gli altri pregare per i bisogni dell'altro la seconda scena è quella che c'è stata giustamente già raccontata il momento in cui Martino diventa vescovo e Martino non voleva diventare vescovo ci sono tanti aneddoti su questa storia si dice che quando gli abitanti di Tur andarono incontro a Martino per farlo vescovo lui si nascose soltanto che delle oche lo rincorsero e cominciando a starnazzare chiamarono tutti dicendo è qui si è nascosto qui infatti c'è da dire che a volte può capitare che Martino era affigato era affigurato con un oca accanto proprio per ricordare questo episodio ecco Martino probabilmente forse non voleva diventare vescovo anche perché sapeva che con il suo stile con il suo modo di vita non sarebbe stato tanto accettato né da parte del clero però nemmeno dai signori della città però ugualmente Martino accetta di diventare vescovo di essere vescovo e però lo accetta proprio continuando in definitiva in questo spirito nella completa donazione a Dio ma anche ai fratelli specialmente anche a quelli che in realtà poco lo sopportavano poco lo accoglievano quindi potremmo dire che se una prima dimensione della reciprocità di San Martino è nella preghiera la seconda attraverso queste opere potremmo dire è proprio quella nel servizio anche un servizio fatto forse a malincuore ma corresponsabilità vissuto diventa anch'esso strumento di reciprocità di entrare in relazione appunto con l'altro la terza invece formella ci presenta la cosiddetta messa di San Martino e questo è un episodio che in realtà è già stato un po' accennato da padre Bellini proprio perché come possiamo vedere Martino qui sta celebrando la messa e c'è un po' tutto l'ordine sacerdotale perché sulla destra ha appunto sulla sua sinistra c'è il sacerdote dalla parte opposta c'è il diacono all'estremo sinistro c'è l'accolito con il turibolo e dalla parte opposta c'è il lettore con il Vangelo con Martino sta proprio celebrando l'eucaristia però se vedete alzando le mani ha le mani un po' scoperte ha i bracci un po' scoperti e questo perché si dice che un giorno proprio andando a celebrare l'eucaristia un povero seminudo gli chiese se gli poteva dare qualcosa lo prese andarono in cattedrale e chiesero all'arcidiacono Martino chiese se poteva andare nel deposito a prendere degli abiti per questo per questo povero l'arcidiacono forse un po' stufo perché tante volte erano queste le richieste del suo vescovo lasciò perdere allora Martino non fece altro che levarsi la sua tunica sotto il mantello e la diede al povero è soltanto che arrivò il momento di celebrare la messa e Martino non era poi così a questo punto vestito in modo decoroso e allora disse all'arcidiacono guarda che non posso celebrare la messa perché il povero intendendo lui non è vestito l'arcidiaco uno stufo andò in questo deposito prese la prima veste che aveva e la diede perché con la speranza almeno che non continuasse più a chiedere per i poveri Martino si mise la veste però quando arrivò il momento della consacrazione di alzare e stendere le mani queste mani essendo una tunica piccola e nemmeno troppo bella si sarebbe visto il braccio scoperto però in quel momento un fuoco nell'immagine si vede molto bene un fuoco scende sul capo di Martino e in quel momento due angeli uscendo da quel fuoco li ricoprono i bracci le braccia con dei tessuto con un tessuto tempestato di pietre ecco in questa immagine potremmo cogliere proprio come questo fuoco è il fuoco dell'amore nella sacra scrittura si dice il signore ama chi dona con gioia ecco la reciprocità di Martino è una reciprocità che si fa prima di tutto concreta materiale e proprio questo donare con gioia di Martino nei confronti di questo povero ricopre potremmo dire e arricchisce di più Martino di ciò che aveva donato quindi una reciprocità che si fa preghiera una reciprocità che si fa servizio una reciprocità che concretezza guarda alla povertà fisica delle persone infine l'ultima formella che noi possiamo vedere è quella in cui Martino vescovo come vediamo vestito con in abiti pontificali scaccia il demonio liberando uno sesso sono tanti gli episodi diciamo così nei quali Martino compie questo gesto non è questo qui raffigurato però ce n'è uno nel quale una volta un giovane bello si presentò a lui dicendo che era il Cristo che era venuto a ricoprirli di onore ecco Martino scaccia libera a questo giovane dal demonio che era dentro di sé perché dice no il re il mio re non sarebbe venuto incontro a me in questi abiti sontuosi ma sarebbe venuto con i suoi abiti quelli appunto della croce ecco in questo gesto Martino che se nella formella precedente si occupa della povertà fisica delle persone in questa Martino se ne occupa soprattutto la sua reciprocità ne è punto dall'aspetto anche morale e spirituale ma soprattutto in questo episodio si fa comprendere come anche Martino ha attenzione di ciò che davvero gli si presenta davanti non si ferma solo a ciò che appare ma la sua reciprocità si fa attenzione davvero profonda a capire ciò che è veramente vero buono bello nei confronti di chi si pone davanti a lui e allora potremmo dire se questa quadruplice aspetto della reciprocità di San Martino come preghiera come servizio come dono concreto e materiale dei bisogni ma anche attenzione spirituale ai bisogni degli altri queste formelle se soprattutto le andiamo a rivedere specialmente quella nella quale celebra l'eocarestia potremmo dire che davvero Martino nell'esperienza dell'eocarestia in questa reciprocità con Cristo trova anche reciprocità nei confronti di coloro che incontrano potremmo dire però quando è che Martino vive tutto questo è se noi un attimo ci spostiamo idealmente all'ingresso dell'atrio della cattedrale cattedrale troviamo il labirinto certo con tutto un altro significato però se guardate bene il labirinto è formato da quattro spicchi da quattro zone quattro come sono l'età dell'uomo e allora potremmo dire che del resto partendo dall'immagine di San Martino dell'elemosina al povero che era più che un adolescente fino in fondo alla sua vita ecco in ogni momento della sua vita in ogni età in ogni sua condizione Martino ha vissuto questa quadruplice reciprocità nascendo proprio in questo rapporto di ricerca di donare la sua pelle la sua vita a Cristo per poi saper donarsi completamente e non donare all'altro il superfluo ma l'essenziale a coloro che incontravano quindi penso anche che per coloro al di là o meno di essere credenti ma si sentono chiamati e vivono l'esperienza del volontariato la figura di San Martino ricorda che prima di tutto non è un servizio per sé ma è un servizio soprattutto per gli altri è un servizio anche impegnativo perché non chiede ciò che è superfluo ma richiede davvero l'essenziale il donarsi completamente certi che anche se questo a volte può costare fatica difficoltà però si è sicuramente ricompensati molto di più del tempo delle energie dei realtà materiali anche che si sono date alle altre persone bene Don Daniele è stato nei 15 minuti precisissimo quindi ecco siamo alla conclusione degli interventi se ci sono delle domande possiamo anche farle e se no ci avviamo alla conclusione ecco ci abbiamo ancora collegato padre Bellini e quindi anche lui è a disposizione per eventuali domande e ha seguito tutti gli interventi estremamente interessanti che ci sono stati se padre Bellini vuole aggiungere qualcosa può farlo visto che abbiamo quasi interrotto l'intervento non la ringrazio quando lei mi ha interrotto ero proprio all'ultima frase bene grazie sì prego Don Luigi padre Bellini mi fa piacere lui è sul luogo della vita di San Martino quindi è una testimonianza importantissima le vite di San Martino ce ne sono di contemporanee anche di successive ma sono così come si può dire storicamente attendibili queste che noi oggi è diventato un aggettivo leggendario queste leggende sono veramente storicamente attendibili fino a che punto e quando sono maturate in che ambiente bene la geografia quello che la caratterizza è proprio questo l'intenzione della geografo cioè dell'autore di queste vite non è tanto raccontare quello che è successo con dettagli nello specifico però di dare un esempio di edificare i lettori è questo l'intento e quindi in queste vite abbiamo degli elementi storici e allo stesso tempo come diceva lei leggendari un po' un po' una costruzione letteraria per l'edificazione di quello che legge perché l'intenzione della geografo è glorificare Dio e dare appunto un esempio di qualcuno di un santo per i fedeli queste vite questi ascetti non sono un modello soltanto per quelli che vogliono poi farsi monaci o religiosi o ma è un esempio per tutti i fedeli ovviamente mutatis mutatis ognuno deve adecuare nella sua vita l'esempio di quel santo e come voi avete molto molto bene avete detto molto bene questi esempi non mancano nella vita di San Martino quello del servizio quello della reciprocità della generosità e poi non non so se ho risposto alla sua domanda se c'era una seconda parte no credo che abbia risposto sì sì ha risposto a entrambe bene allora andiamo avanti con la possibilità di domande intanto io saluto è la mazzarella Linda Simonetti che quando citato le persone di un certo cammino erano presenti erano anche diciamo un grande supporto per le persone che facevano politica o amministravano la città di Lucca o la provincia in quegli anni mi riferisco in particolare a Giuseppe Vicocchi allora se non ci sono domande ci avviamo alla conclusione di questo incontro vi ringrazio tutti per la vostra presenza ricordo come ho detto all'inizio che l'evento è registrato e quindi lo potete trovare sul sito di Spazio Spadoni e sul canale Youtube sempre di Spazio Spadoni questa convention è uno strumento veramente a disposizione della crescita e della condivisione di tutti ma anche un momento importante per approfondire e portare ulteriore contenuto alle attività di questa fondazione che ha cominciato da poco il suo cammino ma sta correndo e quindi è molto veloce nel fare le cose e farle molto bene sicuramente nei prossimi giorni ci saranno ancora tanti appuntamenti importanti Spazio Spadoni sostiene anche la campagna delle misericordie per gli aiuti ad Haiti che è una tragedia forse anche un po' dimenticata l'iniziativa delle misericordie è quella di fornire dei kit di sopravvivenza alle famiglie colpite dal sisma e quindi ogni kit è stato preventivato in 50 euro e quindi attraverso una campagna che fanno le misericordie sostenuta appunto da Spazio Spadoni stiamo promuovendo questa raccolta come considero di presidenza della confederazione nazionale credo che sia anche veramente da esprimere un ringraziamento alla fondazione per l'aiuto che sta dando al mondo delle misericordie il presidente nostro recentemente eletto Domenico Gianni non potrà essere presente in questi giorni ma ecco anche attraverso diciamo i messaggi che ci ha fatto recapitare ci ha detto quando siete lì ecco ringraziate a nome del mondo delle misericordie Spazio Spadoni per quello che fa e poi a seguire oggi alle 17 ci sarà un incontro sui centri missionari identità e differenze due lati di uno stesso cammino quello della reciprocità in cui interverranno Claudia Del Rosso Suor Mariella Guidotti Giovanni Balestreri e Suor Cristina Giacinti quindi buona persecuzione c'è una domanda allora è arrivata una domanda da da fuori quindi sì allora c'è la signora Giovanna che ci chiede come mettere in pratica i quattro punti della reciprocità di San Martino nella nostra società e nelle quattro fasi della vita che prima accennavate quindi a chi diamo la risposta a Don Martinelli ma io credo che come dicevo anche prima è prima di tutto una scelta di vita San Martino sceglie di donarsi completamente a Cristo e però è anche vero che se si va a vedere Martino non è andato a cercare questo povero o le altre situazioni in cui abbiamo illustrato ma semmai ecco Martino ha vissuto giorno per giorno la sua vita con la consapevolezza che il volto dell'altro dietro il volto dell'altro c'era il volto di Cristo a volte sembra bisogna fare chissà che cosa però penso che a volte basta anche dare un sorriso a chi non lo riceve mai è sicuramente uno dei modi per farci reciproci agli altri però certo l'importante è che come ha fatto Martino si doni all'altro non qualcosa di qualcun altro ma qualcosa che è nostro e qui credo che non sia importante tanto la quantità ma soprattutto la qualità basta anche ripeto un piccolo sorriso a chi non lo riceve mai è già un gesto di reciprocità e come un sorriso lo può dare un bambino piccolo come una persona anziana è un modo anche questo certo però come dicevo prima nella consapevolezza che Martino dona sin dall'inizio vende la sua pelle a Cristo quindi ogni gesto che egli compie lo compie perché ha scelto prima di tutto la reciprocità con Cristo che l'ha aiutato poi a avere reciprocità nei confronti di chiunque ha incontrato nella sua vita diamo anche a Don Luigi la possibilità di rispondere a questa domanda è una domanda interessante è utile anche come sacerdote parroco magari sempre siamo abituati in qualche modo a cercare di far vivere il Vangelo più che le formelle di pietra però la vita di San Martino ci spiegava Don Daniele Martinelli e padre Bellini la vita di San Martino è stessa una testimonianza della coniugazione del Vangelo e della vita lui nel suo ruolo di servizio militare ha dato qualcosa di importante quindi credo che sia un invito ciascuno nel proprio ruolo nei propri panni non a dare qualcosa del suo perfluo ma anche a incidere in qualcosa di importante per la propria vita mi viene in mente il frate che è morto ma sapete quanta gente è morta nelle nostre case vicino a noi morta di solitudine per esempio soprattutto ora in periodo di pandemia quindi noi magari non saremo in grado di ridare la vita materialmente io non l'ho mai data materialmente alle persone però a volte attraverso la compagnia una telefonata si dà la dignità alle persone che si trovano sole quasi morte quasi morte anche mi suggerisce la non voler diventare vescovo e appena diventato vescovo fondò un monastero di nuovo voleva rimanere anche nel suo spazio eremitico mantenere il suo stile no però accettare accettare anche quelle che sembrano delle promozioni ma con uno spirito di servizio cioè come dei ruoli che ti permettono di esprimere quello che tu hai nel cuore questo ha fatto proprio Martino per cui viene riconosciuto santo nella sua preghiera liturgica lo spirito santo si è posato su di lui questo globo che non bruciava ci dice che anche noi possiamo essere trasformati nella preghiera tutti noi che andiamo alla messa non dico se abbiamo già esperienza però potremmo avere esperienza di una preghiera un po' più intensa San Martino mica tutti i giorni riceveva la visita dello spirito santo però c'è stato un momento che il suo volto è diventato radioso luminoso come il sole infine scacciare demoni a noi ci sembrano cose di altri tempi perché siamo abituati a un certo razionalismo ma sapete quanti demoni della malinconia della depressione attanagliano le persone che sono vicine a noi e allora forse senza fare grandi miracoli enormi non diventeremo santi non saremo proclamati da nessuno senza senza paura siamo solo dei servi inutili però forse anche come volontari quanti piccoli miracoli quotidiani possiamo operare anche proprio a partire da queste cinque immagini che sono sulla nostra straordinaria cattedrale questa qui di Lucca e poi anche sulle altre in tutta Europa diamo allora la possibilità anche a padre Adriano Bellini di salutarci così concludiamo questo incontro grazie mille per l'invito io vorrei dire soltanto che il fatto che quel povero era riservato a Martino e questo ci deve ricordare che anche noi abbiamo sempre qualcuno che Dio che ci ha riservato ma a chi non dobbiamo fare soltanto un gesto di cortesia di gentilezza passaggera ma di riconoscere nell'altro nel prossimo veramente il volto di Cristo è sempre la questione lì del buon samaritano chi è il mio prossimo spero che possiamo riconoscere tutti Cristo in quella persona che ci è riservata e che aspetta la nostra attenzione aspetta che ci fermiamo come Martino senza passare indifferenti grazie a tutti bene grazie a Padre Adriano a Don Luigi Bertolucci a Don Martinelli ora alla conclusione consegno a nome della fondazione Spazio Spadoni e anche dell'autore Sergio Mura che è qui con noi il libro sulla storia del convento di San Cerbone che lo stesso Sergio Mura ha scritto in questi anni oggi questo convento è gestito in maniera splendida dalle suore di San Francesco di Sales ma questo convento è stato per molti secoli un convento francescano e quindi anche molto legato per l'appunto al convento di San Francesco di Borgamozzano perché entrambi appartenevano ai frati francescani riformati e quindi mentre i due conventi non avevano nessun contatto con il convento di San Francesco di Lucca il grande convento che è dentro le mura questi due conventi erano in stretto contatto perché entrambi appartenono ai frati francescani riformati e quindi per molti secoli Borgamozzano e San Cerbone hanno avuto una stretta collaborazione anche nelle custodie lucchesi dove questi due conventi erano inseriti bene grazie di nuovo a tutti e buon lavoro alla fondazione Spazio Spadoni per i prossimi giorni e per i prossimi impegni grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti